9 condanne, appena comprese tra gli 8 e i 10 anni di reclusione, sono state richieste dalla Procura di Bari nei confronti dei presunti affiliati alla criminalità giorgiana arrestati nel giugno 2013. Per loro, IPM Marcello Querce e Patrizia Rautis hanno chiesto nelle scorse settimane il giudizio immediato per i reati di associazione mafiosa transnazionale finalizzata ai furti in appartamento, estorsione, riciclaggio, corruzione e uso di documenti falsi, con l'aggravante dell'uso delle armi. La pena più alta, 10 anni, è stata chiesta per il presunto capo della banda, noto come Django, catturato nei mesi scorsi in Ungheria, mentre 8 anni e 8 mesi è la pena richiesta per il gestore e l'organizzatore delle batterie di ladri. Condanne a 8 anni di reclusione sono state chieste infine per gli altri 7 imputati, tra cui il braccio destro del boss e il responsabile delle questioni giudiziarie ed economiche dei membri del clan detenuti e delle loro famiglie. L'indagine della squadra mobile della questura di Bari è scattata nel gennaio 2012 a seguito dell'omicidio di Churaz e Rezav, il cittadino georgiano ucciso con 4 colpi di pistola nella centralissima piazza Aldomoro, davanti alla stazione centrale. L'uomo era ritenuto vicino al clan Kutaisi, del quale fanno parte anche gli imputati, da tempo in lotta con il clan Rustavi per il controllo dei traffici commerciali con la Georgia. Il processo si sta celebrando con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale di Bari, Michele Parisi. Il processo si sta celebrando con la squadra di Bari, Michele Parisi. Il processo si sta celebrando con la squadra di Bari, Michele Parisi.